Non c'è Natale senza neve a dirotto, non c'è iapete senza regalo sotto, non c'è trentuno senza voto, non c'è dodici senza ottantuno. Anche a Natale chiama il 1288 per trovare i negozi per i tuoi regali, il ristorante per il cenone e fare gli auguri a chi vuoi tu. Non c'è dodici senza ottantuno.